detto seriamente sì oggi mi sono fatto un piccolo esame di coscienza dirla tutta e ho capito che la quarantena ma la quarantena mi ha mi ha tranquillizzato brutto pelato bastardo mi ha tranquillizzato sta quarantena l'altro giorno sono uscito che adesso stavo in zona gialla quindi le 5 circa sono a fame l'aperitivo e non mi piace più se in giro regà non riesco più a sa a divertirmi in giro c'è sto là bevo la birra silenzio tranquillo dignitosamente brillo prima magari avevo un carattere più più movimentato faceva le cazzate a famo questo questo invece ho bevuto e sono da casa mi ha tranquillizzato e ho capito che sta vita un po mi piace è una cosa passeggera un po un po un po mi piace condivido ma so che tanti di voi c'è tanti dei miei amici quindi immagino pure tanti di voi stanno a vivere la stessa cosa e quindi e quindi niente bella bella pepe lo sta tranquilli guarda sto qua mi ascolto questo figo operate lo fi music bevo un birrino due massimo qualche birra qualche quanta quante tre o quattro a testa c non è vero perché punto sempre in meno di prima meno di prima meno di prima